Lanciata a Parigi, Your Art, una piattaforma digitale che punta a diventare un riferimento per gli artisti di tutto il mondo. Una sorta di YouTube dell'arte a cui tutti possono accedere, dilettanti o professionisti, per esporre o vendere le proprie opere. Dietro al progetto c'è Maurice Lévy, magnate della pubblicità, presidente e direttore generale del gruppo Publissi. Innanzitutto volevamo un luogo aperto a tutti gli artisti, senza discriminazioni, ha spiegato. Professionisti famosi o meno, dilettanti, principianti, coloro che sono alla ricerca del loro stile, della loro espressione o del loro pubblico. I grandi, gli emarginati e anche, forse, soprattutto gli sconosciuti, gli invisibili. Ma è anche e soprattutto uno spazio di creazione, cioè se avete voglia di creare il vostro museo, potete farlo. Investire nella riconversione degli edifici in chiave efficiente e smart porterebbe il nostro paese a ridurre i consumi energetici del 20-24% l'anno, quelli idrici del 4-5% a un taglio delle emissioni di CO2 del settore edilizio tra il 19 e il 28%, con un risparmio complessivo stimato in circa 14 miliardi di euro l'anno. Sono alcuni dei dati contenuti nel primo rapporto strategico della Community Smart Building, piattaforma di confronto di alto livello avviata lo scorso anno da The European House Ambrosetti, presentato a Roma a Palazzo Rospigliosi. Uno smart building è un hub di servizi automatizzati in real time, quindi una visione evolutiva della funzione d'uso di edificio, che può permettere da un lato di massimizzare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, risorsa idrica e risorsa energetica, di massimizzare la capacità di costruzione in termini efficienti e in ultima analisi, ma non ultima, di massimizzare il benessere e la salute degli individui. È già stato ribattezzato il robot pittore. Dopo aver scattato una fotografia, è in grado di riprodurre il ritratto di una persona. Il sistema è stato uno dei protagonisti dell'anticipazione del Festival della Robotica di Pisa. A realizzare il robot pittore, l'Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna. Altro esempio di interazione tra uomo e macchina è i sensori che, applicati su di un braccio robotico, misurano con estrema precisione la forza con la quale vengono sollecitati, un'innovazione che potrà avere ampie applicazioni anche in sanità.